Mi vergognavo di andare da mia madre, da mio padre e dire sono in un momento di crisi spirituale, ok? Non essendo tra l'altro la mia famiglia una famiglia molto legata a questi temi, no? E quindi in realtà la tua figura è stata provvidenziale all'interno tra l'altro del web che è un luogo in cui veramente passa qualsiasi cosa. E in quel momento è stato fondamentale. Io vivevo un momento appunto in cui non solo non avevo punti di riferimento ma mi ero autoestirpato da quella bolla che ti protegge, che è la scuola. Io avevo appena mollato le superiori. Lo avevi? C'è sette anni, giusto? No, ma che ne avevo meno. Tra i 15 e i 16 ne avevo, sì, quando ho mollato. Ho mollato quasi subito, appena ne ho avuto l'occasione. In quel momento lì in cui ti ritrovi con un sacco di tempo perché non ci si rende conto che la scuola forse è una delle cose migliori che fa è occupare il tempo nella vita di qualcuno. Ed è difficilissimo infatti relazionarsi poi con la noia, con il tempo libero. Mi ci sono relazionato molto presto, intorno ai 15-16 anni. Quindi quando hai tanto tempo per pensare a te, cosa hai fatto nella vita, hai fatto pochissimo tra l'altro fino a quel momento, però tutto sembra enorme, non vuoi andare dai genitori. Perché loro ti dicono torna a scuola, torna allora in una via prestabilita dove effettivamente i percorsi in generale di qualsiasi ragazzo insomma nascono, crescono e muoiono lì. È un ciclo continuo. Perché hai mollato la scuola? Ma io mollai la scuola in realtà per il semplice fatto che non ci sono mai entrato a scuola. Ho sempre vissuto tantissimo la vita privata dei miei genitori, vivendo molto al di fuori delle dinamiche anche con i miei coetanei. Mia madre, insomma vi fate i cavoli miei, ho capito? Mia madre aveva una scuola di danza, era una ballerina, io stavo fino tardi con lei, fin quando non finiva le lezioni, fino l'una, le due del mattino a guardare i balletti, a guardare le prove, a stare in sala ballo. E giustamente il giorno dopo un bambino arriva stanco a scuola, quindi non sono mai entrato nei ritmi scolastici. E non entrando nel ritmo della scuola, per me la scuola non è neanche mai stato un incontro, una ritualità a tutti gli effetti. E quindi il mio estirparmi in realtà è stato semplicissimo. Quando ho capito che non era il mio momento, non era il mio luogo, e che potevo fare altro magari, tra l'altro la crisi che stavo vivendo non era una crisi di smarrimento, ma una crisi, un inizio di ricerca. Dicevo, ok, me ne vado da quel luogo, cerco il mio. Te ne sei andato perché avevi brutti voti, andavi male a scuola, avevi litigato con i compagnetti, cioè qual era il motivo? Sì, sì, mi hanno bocciato quell'anno, mi ricordo, sì. Mi bocciarono, mi bocciarono. Non era come il protesto, l'avremmo andata a prescindere probabilmente, sì. Mi bocciarono comunque, ma come sono stato anche ribocciato un'altra volta, quando tentai un recupero. Ma questa è un'altra storia. Meglio non... Me lo ricordo. E tu lasci la scuola, e cosa fai? C'è un ragazzino che non va a scuola, lavora? Sì, ho iniziato subito a lavorare, in realtà. Lì a Pordenone c'era la possibilità di lavorare per questa sala concerti, quindi iniziai a lavorare facendo, no, questa non la posso dire forse, però facendo firmare i contratti a qualcun altro, di più grande di me, perché non potevo effettivamente a 15-16 anni, quindi iniziai effettivamente a lavorare come organizzatore di eventi, principalmente musica. E poi ho incontrato te. Poi ti ho scritto, perché io avevo questa fortissima passione, questa fortissima inclinazione, alla scrittura, e avevo bisogno effettivamente, per scrivere, è tanto importante vivere la vita, tanto importante fare un viaggio all'esterno, nel mondo, quanto è importante rendersi conto che poi il viaggio principale, quello che poi trasforma la vita in scrittura, è il viaggio interiore. è quello poi il processo, che è il processo di regressione, è il processo verso se stessi, all'interno di se stessi. E non avevo gli strumenti per farlo, non avevo una persona con cui relazionarmi per conoscere quegli strumenti. chi meglio di un prete? Non è scontato, non è scontato, non tutti dicono sta cosa, però, anche perché la cosa che mi aveva colpito, di Riccardo, è che non aveva proprio il pedigree del bravo cattolico, anzi, cioè, eri molto fuori dai giri, però, ti eri aperto con me, e avevi cercato un confronto, e all'inizio ti ho chiesto mandami dei vocali, così mi spieghi, via vocale, podcast praticamente. Dopodiché, quando ho capito che effettivamente c'era un ragazzo che stava facendo una ricerca seria, di sé, di qualcosa di grande, ti ho dato retta, perché mi ricordo che quando ero ragazzo, anch'io, 17 anni più o meno, e non capivo cosa volessi fare nella vita, cercavo dei riferimenti, e mi ricordo che c'era Alessandro D'Avenia, conoscete? scrittore, professore, che aveva un blog, siamo prima dei social forse, e io lo leggevo, e gli ho scritto, e mi ricordo che mi aveva risposto, e la risposta di Alessandro D'Avenia, con i suoi consigli, cioè era stata, non dico la svolta, della mia adolescenza, però, sicuramente un punto importante, per cui, cioè, sapevo quanto potesse essere importante per un ragazzo, come te, avere l'attenzione di un adulto, e poi, tu hai preso una scelta, da molto giovane, è una scelta evidente, che vediamo tutti, che conosciamo tutti, te la porti al collo questa scelta, in questo momento, no? È visibile, per me, a quell'età, anch'io avevo preso una scelta, forse la prima vera scelta della mia vita, no? Come forse questa è stata la tua prima vera scelta della tua vita, questa cosa qua, io la trovavo come un punto in comune, no? e tra l'altro la tua è stata esistenziale, la mia, ho detto, forse sarà un errore, chi lo sa, però sento che c'è una vocazione, sento che qualcosa mi porta a prendere questa scelta, e non è di certo una ribellione, non ero un teppista, ecco, anzi, ero molto pacato, quindi questa cosa qua mi ha sempre affascinato molto, sinceramente. Infatti io, questo qua mi scrive, ho lasciato la scuola, mi hanno bocciato, organizzo eventi per conto di altri, mi avevi parlato di una situazione in famiglia, non facilissima, io pensavo, ho detto, proviamo a sentirci, c'era il covid, abbiamo fatto una videochiamata, lo vedo, pieno di tatuaggi, avvi l'orecchino forse? Ma no, no, forse è la mia immaginazione. Ho detto, questo qui, non è un teppista, ma per te ero un trapper, ero un teppista da strada. E invece, è un ragazzo pacatissimo, che ha una proprietà di linguaggio non indifferente, che nella vita vuole fare lo scrittore, anzi, che aveva già scritto il tuo primo libro, e che mi chiedeva consigli spirituali, quindi questa cosa mi ha spiazzato, e mi ha molto interrogato, perché dico, il fatto che tu sia stato bocciato, il fatto che tu abbia fallito il percorso scolastico, che tu non corrisponda al cliché del bravo ragazzo, in realtà non ha fatto di te uno scarto. Forse per qualcuno lo sei, per i professori che ti hanno bocciato, magari sei stato un errore del sistema, però in realtà da questa cosa, tu hai tratto fuori una bellezza, che mi ha colpito, perché io dei ragazzi ne conoscevo tanti in oratorio, però sicuramente lui ha visto qualcosa di particolare, e la particolarità di Riccardo, era legata, credo, tanto agli errori, che aveva commesso, senza i quali non si sarebbe creata questa storia così particolare, e a quel punto ci siamo incrociati insomma, ci siamo intrecciati, tenendo la metafora dei fili. Allora io tra me e me ho detto, ma in che modo effettivamente è possibile dargli una mano, aiutarlo, sostenere questo legno storto? Io stavo facendo un progetto di comunicazione, che era un podcast, con dei ragazzi dall'oratorio, e dico, ma lui fa, tu facevi l'autore radiofonico, giusto? Sì, in realtà, proprio in quel periodo lì, sì, proprio in quel periodo lì, venne assunto a radio DJ, per fare l'autore, sì. Quindi dico, un ragazzo di 17 anni, che viene assunto a radio DJ per fare l'autore, io sto facendo un podcast, ma perché non ci diamo una mano? E quindi Riccardo, hai accettato di buon grado di fare questa cosa, è stata un po' l'occasione e il predesto per conoscerci, e entrare in relazione. Tra l'altro a proposito di relazioni, tu che vivevi all'interno dell'oratorio, quindi eri abituatissimo al passaggio di persone, all'incontro, covid, Sì, infatti per me è stato molto, come dire, spontaneo a un certo punto, provare a trattarti come tutti i ragazzi dell'oratorio. A un certo punto Riccardo mi dice, mi sono stufato di stare a Pordenone, voglio fare un salto in avanti, voglio lavorare per radio DJ, la mia ragazza abita a Varese, e quindi conosci qualche casa che costa poco a Milano? Io non, già adesso è impossibile trovare casa. All'epoca io abito a Milano, quindi all'epoca non sapevo proprio niente. Con il budget di un diciassettenne, con la paghetta. Quindi gli dico, guarda, francamente no, non ho un'agenzia immobiliare, tanto meno, però posso proporti, ci ho pensato un attimino, però ho voluto azzardare, viene a vivere in oratorio con me. Fullire. E Riccardo aveva ancora diciassette anni, però io ho detto, quanti anni hai? Ancora diciassette. Però poi ne compi il diciotto tra poco, bella lì. Quindi non appena hai compiuto diciott'anni, tipo una settimana dopo, ti sei trasferito in oratorio a Bustarsizio. e questo ci ha dato la possibilità di collaborare poi al progetto di comunicazione, perché vivendo insieme, si lavorava, si pensava, si creava e poi è stata veramente un'esperienza molto interessante. Non so per te, abbiamo preso il Covid assieme, io e Don Alberto, passavamo tante serate a parlare, di libri, non abbiamo mai giocato i videogiochi assieme. No, perché quando abbiamo preso il Covid, lui è stato sopra e la stanza con l'Xbox ce l'aveva lui. Certo, certo, certo. Io stavo sotto. Eravamo divisi, io avevo una stanza con il balcone e mi ricordo che mi venne portato su un microonde e mi venivano passati i cibi che io dovevo arrangiarmi da solo, avevo la TV, l'Xbox, credo che sì, sì. Notte, giorno, chissà. Ho passato tra l'altro tantissimo, quasi un mese, sono stato dentro lì. Il tempo che mi è servito per scrivere un libro e un po' altro. Tra l'altro che adesso condividiamo lo stesso editore. Sì, 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 sì. Sì, è vero, è stato molto interessante. Io sentivo le tue call da sopra con il Covid e dicevo, grande doll. È stato molto interessante come le storie sono intrecciate. Allora, io in quel periodo stavo vivendo un'esperienza molto particolare perché Covid, che è stato un po' l'asciagura di tanti, il lavoro, le famiglie, è stato un periodo difficile per tutti. Però per me si è rivelato in realtà un periodo molto fecondo. Una crisi, una frattura, un errore nel sistema che però mi ha riscluso tante possibilità. Inizio a fare dei video per rimanere vicino ai ragazzi. I video vengono visti da tanti. Questo modo di comunicare da prete sorprende tante persone e decido di percorrere questa strada. Quindi mi butto nel mondo della comunicazione. Inizio a diventare, dicono, un influencer. Eravamo all'inizio. E mi rendo conto che era promettente tutto questo. Nel frattempo, mentre diventavo popolare, in oratorio, oratorio che era rimasto chiuso per il Covid, che abbiamo riaperto a un certo punto, mascherine, triage, oggi se ci pensiamo è come se fosse un'altra epoca, ma era veramente l'altro giorno. Quell'esperienza in realtà è stata la svolta per l'oratorio perché tutte le attività si sono azzerate. Quindi tutto fermo. E si è ripartito da quello che c'era. I ragazzi, adolescenti, che venivano in oratorio, io gli davo spazio, attenzione, fiducia. Abbiamo fatto esperienze molto forti. Si sono convertiti e hanno ripreso a venire a messa, a frequentare l'oratorio, ma in maniera diversa. Non perché c'era il don che li convocavo, perché c'erano delle iniziative, ma perché ci volevano venire. Perché tra di loro stavano bene, si sentivano fratelli. E a me mi vedevano come un padre. Quindi stava nascendo un modo nuovo di stare in oratorio, un'esperienza nuova di quel luogo. E dei rapporti davvero sorprendenti. Niente di troppo fuori dagli schemi, ma le solite cose di sempre. Ma c'era una novità che non potevo non considerare. E tutto questo, apparevo il motivo per cui è arrivato Riccardo, tutto questo nasce perché durante l'estate fatidica del Covid 2020, io ho vissuto insieme a due seminaristi, due ragazzi che erano in cammino verso il sacerdozio. molto diversi noi tre, però ci volevamo davvero bene. E le relazioni fra di noi hanno permesso ai ragazzi di sentirsi voluti bene. E sono cambiati. Quindi è stata la fraternità fra noi tre che ha cambiato i ragazzi. Io quando questa cosa l'ho capita, mi sono detto, non posso perdere questo valore. Io ho avuto la grazia di vivere con due seminaristi e tutto è cambiato. Mo, mo vivo da solo. Cioè ho scoperto l'America, diciamo così, della vita pastorale di un prete. Mo la lascio. Torno nel vecchio mondo. Quindi lui è stato per me l'occasione di continuare a fare la vita comune. Questo era un ragazzo disperato. Ma non è vero, scherzo. Era un ragazzo che era in ricerca, aveva tanta speranza nei confronti del futuro. Voleva fare un salto di qualità. C'è stata l'occasione che venisse a vivere in oratorio per fare questa vita comune. Io ho detto, boh, chissà. Dio cosa sta preparando. E ho accettato. Con anche due desideri nel cuore. Fargli fare un'esperienza di chiesa bella, perché lui la chiesa non l'aveva mai conosciuta. Bene. E far fare ai miei ragazzi dell'oratorio un'esperienza nuova di chiesa. Una chiesa aperta. Che accoglie quelli fuori. Non solo quelli della propria parrocchia. Non sempre i soliti. Ma un ragazzo che viene da lontano, che non c'entra niente con l'oratorio e che poi diventa amico di tutti. Perché la cosa bella è che tu ti sei legato con gli altri, sei diventato amico di questi ragazzi, questi ragazzi sono diventati amici tuoi. Abbiamo fatto un'esperienza bellissima con Doncast, che è il podcast che abbiamo creato. Pazzesco. L'altro giorno ho rincontrato Giacomo Poretti, di Alto Giovanni e Giacomo, che è stato uno degli ospiti di Doncast. E mi ha riconosciuto. Ma io mi ricordo. Avevamo dato spettacolo. Tu eri più basso, io ero più alto. No, non penso. Forse io ero più basso, ma tu eri sempre lì. Per ridere. Doncast è stato incredibile. Tra l'altro anche Don Luigi Maria Picocco, che è stato qui all'incontro. Non so se c'è qualche martire di Torino Spiritualità che si è fatto due incontri di fila. No? Beh, prima di me. Sì. Sì. Un applauso alla signora. Grande. Intanto bevo. E anche Don Luigi Maria Picocco l'abbiamo intervistato. C'è stata per me un'esperienza di relazioni. C'è il Covid, paradossalmente, ha chiuso tutto, ma mi ha fatto conoscere un sacco di gente. Gente che non avrei mai conosciuto. Perché poi Riccardo si è portato dietro tutti i suoi amici. e tutte le conoscenze che aveva grazie al mondo radiofonico. Abbiamo conosciuto la gente che andava a cantare a Sanremo. Viene a Doncast, incontra i ragazzi, i ragazzi dell'oratorio che la vedevano, la vedevano allo schermo, alla microfono, ci parlano insieme, si mangiano insieme. Si amplia la cerchia di relazioni. Tutto perché? Perché due fili sono intrecciati. Questa è la cosa sorprendente. Due fili si intrecciano e nascono mille possibilità perché altri fili si possano agganciare a questa storia. E così, niente, ci passiamo tipo tre mesetti insieme che sono stati, vabbè, c'è stato un mese e mezzo di covid, però davvero fecondi. Perché? Perché poi hanno spalancato un sacco di possibilità. Anche di più di tre mesi, un cinque mesi secondo me. Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Insieme. Tanto, eh, col Don, sei mesi, eh. Cioè, no, per dire, perché tre mesi sembra una passeggiata, lo possono far tutti, sei. C'è una scrematura. E poi a un certo punto, però, le strade si sono separate perché era giusto così. Perché non poteva, come dire, fare il parassito in oratorio il buon Riccardo è un po' perché forse aveva bisogno di fare la sua strada, di intraprendere il suo percorso. E quindi... Quindi ci siamo separati. E poi che ti è successo dopo che sei andato via da Busto? E quindi io e il Don ci siamo separati per quanto tempo? Due anni? Forse, forse di più, quasi, no, quasi tre anni praticamente. quindi dopo questa convivenza di cinque, sei mesi assieme, tra l'altro per me è importantissimo dal Friuli arrivare verso Milano anche se è stata una tappa intermedia, è stato Bustarsizio, appunto, dove stava il Don, però mi ero avvicinato al luogo in cui effettivamente quella vocazione, quel richiamo era già arrivato, no? Il mio corpo non era ancora arrivato, la mia mente era già lì, anche perché comunque lavoravo con persone che erano lì, Doncast lo facevamo lì, quindi diventava per me una piazza abbastanza amica e a un certo punto niente, ci siamo separati e lì è iniziata un po' la vita vera per me. È iniziata una vita che forse definirei abbastanza errante più che fatta di errori, se posso permettermi. Afferravo la mia vita, erravo, la cambiavo di nuovo. ho avuto probabilmente sei, sette facce negli ultimi tre anni. Arrivo, faccio il panettiere per qualche mese, anche perché non lavoravo più con la scrittura. Faccio il panettiere per qualche mese, poi finisco, subentro, inizio a lavorare per i podcast, rimango nel modo podcast, aiuto Gianluca, Gazzoli, a creare il basement, inizio a lavorare lì con lui 24-7, però avevo un sentimento profondissimo di nostalgia. Parlavo proprio oggi pomeriggio, tra l'altro, con un amico che ha appena scritto un libro molto bello che presenterò questa domenica e lui dice che la nostalgia è vedere il mondo cambiare però da un punto di vista immobile. Tu rimani fermo, il mondo cambia, quella è la nostalgia. quindi non guardare il passato, guardare le cose che vanno avanti. Quindi io mi sono sentito fermo nonostante un dinamismo importantissimo, un cambiamento repentino di vita ogni 4-5 mesi costantemente, ma mi mancavano le relazioni, mi mancavano le relazioni umane, mi mancava il confronto, quello che invece avevo avuto con te, con i ragazzi dell'oratorio, che sono splendide, veramente splendide. e quindi io rientro nel mondo dei podcast, ci inizio a lavorare molto bene, però io volevo molta più cultura probabilmente, volevo la letteratura, volevo l'arte, volevo conoscere delle persone con cui confrontarmi anche su temi filosofici, poetici e così, in preda ad un guizzo dico, in un momento abbastanza sempre di crisi, dico, ma sai che cosa? Io a Milano non trovo un punto di riferimento, ma io me lo creo da solo, questo punto di riferimento, cioè io creo quel luogo in cui una persona quando dice non so dove andare per incontrare delle persone, ecco, viene da me, viene nel luogo che io ho creato, voglio io abilitare questa possibilità, proprio perché io non la trovo. E allora inizio a fare un passaparola per la strada insieme ad una mia carissima amica, inizio a creare questi gruppi di dialogo all'interno dei bar, ogni settimana un tema diverso e io regalavo un libro, gli ultimi risparmi, ogni volta, quattro libri alla settimana regalati, no? Come se potessi permettermi. E iniziano ad arrivare cinque, sei, sette persone, dieci, venti, trenta, quaranta, iniziano ad essere cinquanta persone a settimana intorno a un tavolo di un bar che è una certa, ma cacciato. prima mi fa, ho capito però, questi qua ti arrivano, tutti i ventenni si prendono l'acqua naturale, non posso occuparti un intero bar di cinquanta acque naturali alla settimana, no? E io ho detto, hai anche ragione tu effettivamente. Allora, lì conosco elementi veramente brillanti e decido parallelamente al lavoro del basement, dei podcast, questo lavoro tra l'altro molto impegnativo perché è un lavoro in cui devi andare alla ricerca dei trend, devi inseguire qualcosa che sembra molto più veloce di te, no? La modernità, la contemporaneità, è esattamente questo. Creo questa associazione culturale, creo questo luogo, unisco un po' di persone, un po' di menti che mi piacciono molto e dico, vi prendete la responsabilità di avere a che fare con la burocrazia? Sì, che bravi. Allora facciamolo assieme, creiamo veramente questo luogo. Poi la vita ogni volta è una sorpresa e inizio ad avere dei problemi di salute e questi problemi di salute riguardavano il mio cervello e allora fatalità a un certo punto io dico, a me piacerebbe chiamare questo luogo noce, come la noce perché c'è questa scena di Shakespeare in cui Amleto si sente in prigione, in Danimarca, no? Dice, ma come fai a sentirti in prigione? E lui fa, guarda che io potrei sentirmi re anche rinchiuso dentro il guscio di una noce. Mi piaceva questo passaggio perché spiega la soggettività degli spazi, come noi percepiamo lo spazio, cambia, cambia. Anche in questo momento io vivo uno spazio, tu vivi uno spazio, qualcun altro vivrà un altro spazio. e nel momento in cui dico si chiamerà noce mi arriva il referto medico con la lastra del mio cervello ed era una noce, era esattamente una noce aperta. Allora ho detto allora era provvidenza, io dovevo essere qui, dovevo creare questo luogo e questo luogo pian piano tra insomma tutto quello che mi accade mi fa mollare tutto il lavoro. In generale ti direi quasi tutta la carriera che era iniziata anche con te stesso, Doncast, la radio, mollo tutto il lavoro autoriale, tutto, e dico io voglio fare solo noce. Poi mi devo un attimino arrangiare. Bisogna vivere di qualcosa? Infatti torno a fare il barista, infatti torno a fare il barista, torno a lavorare al bancone, però conosco delle persone splendide e poi diciamo che io il vicinato a Milano me lo sono coccolato per bene quindi insomma mi vogliono bene, potevo dormire veramente in qualsiasi luogo anche nel retro bottega di un negozio e la cosa interessante è che inizio a fare il barista in questo luogo tra l'altro questo caffè libreria che è anche casa editrice e poi per farvi un po' un salto temporale smetto di lavorare come barista lì e divento direttore editoriale di una collana della casa editrice e pubblico un libro con quella casa editrice lì. Quindi la mia vita diciamo che come grande riassunto è stato questo poi tra alti bassi insomma anche quando si parla di errore a me piace molto di più parlare di errare di vagabondare di questo di questo cammino costante e l'errore per me nella vita è un processo fisiologico della vita stessa crea crea quel dinamismo per quanto mi riguarda quindi sì boh chissà sono errori lo scoprirò un giorno se sono errori io mi ricordo quando un bel giorno Riccardo mi fa arrivare tramite un suo amico Cristian la prima edizione del giornale dell'associazione Noce quindi mi arriva questo foglio a tre scritto fitto 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 e quando l'ho visto ho detto una roba comunista cos'è cosa sembra fuori dal mondo scrivere un giornale su una pagina quest'oggi che me lo passa il tuo amico e poi lo leggo e c'erano scritte cose veramente strambe originali originali perché le persone che aveva messo insieme Riccardo erano persone con una grande spiccata originalità e ti confesso questa cosa lui ci sentivamo comunque non tantissimo in quel periodo no poco poco però io sapevo che c'era e francamente non capivo questo progetto cosa fosse e dove potesse arrivare era un po' scettico rispetto a questo progetto che però mi veniva presentato solamente a lontane sentivo un po' solamente l'eco a partire da Christian che frequentavo di più però però coltivavo una grandissima fiducia nei confronti di Riccardo nonostante tutto mi rendevo conto che così come ha dovuto passare per bocciature fallimenti scolastici una vita da adolescente come dire che è durata troppo poco perché ha smesso di fare ragazzino presto è diventato subito adulto quindi è dovuto passare per questi errori per essere poi la bella persona che io ho conosciuto e che mi ha permesso di fare grandi cose così ero convinto che sarebbe dovuto passare per alcuni passaggi non chiari magari alcuni sbagli alcuni errori sarebbe dovuto avrebbe dovuto errare come ha detto per poi arrivare da qualche parte quindi sebbene non capisci esattamente cosa stesse combinando ero convinto che prima o poi ne sarebbe venuto fuori qualcosa di buono e poi è successo e questa cosa mi ha sorpreso ben al di là di quello che mi potessi aspettare tuttora io mi rendo conto che dietro questi errori oltre queste errare c'è molto di più io in quel periodo stavo facendo totalmente altro c'ero molto assorbito da quello che stava accadendo in oratorio perché stavano arrivando dopo Riccardo cioè Riccardo è stato il primo di una serie di ragazzi che io ho voluto ospitare dentro in oratorio dopo lui c'è stato Federico altra storia di provvidenza apro i messaggi su Instagram e pesco lui ciao ho 16 anni vengo da Roma la vita è un passato un po' così tante cose che non vanno bene sono un po' in crisi se vuoi ti do il mio numero se vuoi ho bisogno di farti delle domande io so ho sentito che dovevo rispondergli gli rispondo bam Federico una delle persone più belle che abbia mai conosciuto diventa amico mio diventa amico dei ragazzi dell'oratorio lo invitano in oratorio a Bussarsizio si trasferisce da Roma a Bussarsizio durante l'estate e Federico era veramente una persona luminosissima che fa la differenza dentro i rapporti con gli altri e ancora una volta mi dico non solo è importante vivere insieme è importante creare connessioni che i muri dell'oratorio vengano giù che i confini diventino dei ponti che le persone possono valicare in avanti e indietro e quindi dico ma perché solo Federico da Roma perché Federico ha fatto benissimo venire a Bussarsizio e i miei ragazzi di Bussi hanno fatto benissimo a conoscere Federico perché non altri perché non tanti altri perché non potenzialmente tutti quindi faccio delle storie su Instagram e invito i ragazzi d'Italia a vivere nel mio oratorio per una settimana e fare una settimana di oratorio estivo ora come dire avevamo cinque posti letto ok quindi ho detto ragazzi scrivete le vostre motivazioni poi vediamo chi prendere centinaia centinaia di richieste panico da cinque siamo passati a dodici posti letto che abbiamo recuperato all'ultimo perché dodici porta bene ecco come numero e quindi sono venuti dodici ragazzi da diverse parti d'Italia dal nord al sud con esperienze diversissime a vivere una settimana nel mio oratorio e questa è stata la svolta della mia vita e della vita di tanti perché poi questi ragazzi cambiano tornano a casa cambiati raccontano agli amici ai don ai vescovi ai parenti quello che gli è successo a Bussarsizio e cambiano altre persone e si innesca un processo di cambiamento che tuttora va avanti e che abbiamo chiamato la fraternità che era l'intreccio delle storie di questi ragazzi che tornano a casa entrano in relazione con altre persone creano relazioni nuove questa cascata innescano alti rapporti eccetera eccetera e la cosa bella è che con Riccardo ha funzionato con Federico ha funzionato con questi 12 ha funzionato e dico avanti andiamo avanti e quindi l'oratorio lo apriamo all'accoglienza di molti altri ragazzi nel giro di due anni io avrò accolto in oratorio forse più di un migliaio di ragazzi che sono venuti da ogni parte d'Italia che venivano a vivere lì per un giorno due giorni una settimana in due in tre in cinque in gita scolastica a volte con il don sono passati dai vescovi c'è stata un'esperienza davvero fuori dal comune in cosa consisteva si vive insieme si sta insieme si prega insieme niente di eccezionale cose semplici però forse era quello di cui c'era bisogno i ragazzi venivano da ogni parte d'Italia un po' perché vabbè c'era Don Alberto che è famoso però in realtà a un certo punto quando mi vedevano e facevano la foto con me basta la poesia era finita poi c'erano i ragazzi la cosa bella era che conoscevano i ragazzi quelli dell'oratorio che diventavano amici loro e pregavano insieme e piangevano con loro io ho assistito in questi anni a storie bellissime persone che arrivavano in oratorio sfasciate veramente sfasciate relazionalmente psicologicamente con problemi di droga o di una sessualità sregolata e dentro la semplicità di relazioni buone con persone autentiche sono ripartiti io veramente potrei raccontare molte storie e mi piacerebbe un giorno poterle raccontare per bene tutte le storie di questi ragazzi che hanno veramente fatto di passi straordinari persone che non sono famose ma che veramente hanno qualcosa da dire hanno delle testimonianze luminose da portare fili che si intrecciano e che poi generano un sacco di altre possibilità una su tutti Davide Davide è un ragazzo di Trieste che crisi nera durante l'adolescenza durante il covid vuoto esistenziale pesantissimo vede un mio video non era credente per niente però dice dice cose belle interessanti e quindi questo gli apre una porta nel cervello poi e mi segue su instagram io pubblico su instagram i post dei ragazzi che vivono le esperienze con me e questi raccontavano di come Dio gli avesse cambiato la vita di come insieme fosse tutto più bello e Davide dice ma io queste esperienze non le ho mai vissute e sono talmente belle le cose che scrivano che o sono matti oppure è tutto vero e quindi vuole provare mi scrive per provvidenza rispondo a Davide Davide del noratorio e la sua vita cambia radicalmente da così a così si fa accompagnare da uno di questi ragazzi insomma lascia l'università si trasferisce a Milano insieme con me insieme ad altre persone questo per dire che se non avessi mai ospitato Riccardo a Busto non avrei mai ospitato Federico non avrei mai ospitato questi dodici non sarebbero venute migliaia di persone nel mio oratorio non sarebbero tornate a casa loro e non avrebbero innescato piccole e grandi rivoluzioni dentro la loro realtà se non avessi avuto il coraggio di scommettere sul ragazzino di 17 anni che mi faceva delle domande serie probabilmente tante delle cose che io sto vivendo adesso e che stanno vivendo tanti non sarebbero mai capitate se io avessi fatto prevalere la parte diciamo così istituzionale adulta che prova a normalizzare le cose ti avessi detto vabbè vatti a cercare un prete a Pordenone vai dal tuo prete oppure torna a scuola che è la cosa migliore da fare piuttosto che vabbè dai arrangiati poi non sarebbe successo assolutamente niente se siamo qui oggi con voi è per questo questa è una catena di fiducia formidabile formidabile una fiducia per quelle cose che sembrano per quelle cause che sembrano apparentemente perse in partenza cioè non so se ho reso l'idea ma dopo che io Don Alberto abbiamo smesso di vivere assieme entrambi inconsciamente abbiamo condiviso una missione entrambi inconsciamente abbiamo creato un nostro modo di fare comunità che poi non è nostro perché non è neanche qualcosa che ha a che fare con la proprietà ma abbiamo deciso di abilitare un luogo abbiamo deciso di creare qualcosa che avesse a che fare con un linguaggio sull'abitare abitare in modo comune uno spazio questa cosa qua è incredibile nonostante la separazione nonostante la lontananza non ci si sentiva e poi è la cosa più incredibile e poi avviene l'ennesima cosa incredibile diventa il prete della mia via a Milano cioè io mi trasferisco da Vostra Sizio a Milano e dopo tre anni lo trasferiscono a Milano nella mia via e diventiamo vicini di casa mi ricordo che appena si era trasferito lui mi diceva a me c'è anche una chiesa vicino a casa mia sono entrato bellissima e io dicevo vai vai in chiesa cioè nel senso non è che hai mollato l'oratorio e mo smetti quindi vai vai in chiesa vai dal prete eccetera eccetera non so se l'abbiamo mai fatto comunque è una cosa pazzesca è che poi quando ci rivediamo dopo che mi trasferisco a Milano mi dice ma guarda che ti ricordi la chiesa che ti dicevo che è vicino a casa mia è questa ma come questa va pazzesco e sì veramente incredibile e ora siamo qui è incredibile perché forse era giusto così cioè forse c'è una provvidenza ancora più grande che sta guidando questi fili perché si riannodino in una città complessa come Milano dentro delle relazioni complesse barra trastagliate barra ferite come quelle dei giovani della città di Milano per fare non so che cosa quello che noi oggi non abbiamo niente da dirvi però abbiamo da coinvolgervi dentro il processo che sta coinvolgendo noi cioè anche prima venendo qui ci siamo detti ma forse ci sarà dell'altro da fare ci sarà dell'altro da dire queste storie dovranno andare avanti e chissà come andranno avanti chissà quali altre persone agganceremo chissà quanto bene si genererà da tutto questo e questo è veramente grande e a Milano trovo Riccardo capisco questa cosa dei fili che si intrecciano e quando scrivo l'ultimo romanzo che ho scritto capisco che che c'è bisogno in qualche modo di provare non dico a mettere un punto ma tracciare una linea e dire bene proviamo a tirare le fila i fili di questa esperienza cosa ne viene fuori ne viene fuori una storia che ho voluto raccontare pensando ai giovani della città di Milano che hanno tutto nella città però forse a volte erano l'essenziale le relazioni quello che per me Riccardo e i miei ragazzi dell'oratorio era mare quotidiano era il dono che quotidianamente loro avevano la possibilità di ricevere ed è interessante adesso che io dal mio punto di vista adulto prete influencer si dice così lui da giovane influencer scrittore redattore non so cosa fai ed altro proviamo ciascuno per quello che può dal suo punto di vista ad annodare i fili della vita delle persone e questo sta dando vita grandi possibilità cioè tu attraverso Noce cosa hai visto barra capito dei giovani della città ma io io mi sono rotto le scatole a Milano di vedere di vedere questo fiume che scorre di persone che sembra che non anche quando si cammina non si abbia una vera direzione semplicemente ci si adatta a non scontrarsi con gli altri così si cammina a Milano non si cammina in altro modo per quanto mi riguarda il grandissimo problema a parer mio è che in tutto si inciampa a Milano non c'è una scelta a priori e infatti Noce quasi sta diventando in questo momento una questione iniziatica neanche più filosofico culturale ma iniziatica cioè il veicolo il messaggio che si vuole veicolare è quello di rallenta il tempo rallenta il tuo tempo trova la tua dimensione fatti contaminare certamente ma scegli da chi contaminarti scegli dove andare dove porti non non inciampare nelle cose non farti portare da altri scegli tu dove andare però se non ci sono punti di riferimento chiari esattamente è difficile che i ragazzi sappiano andare dove vogliono esattamente e questa è la cosa più assurda di tutte che entrambi da fuori Milano siamo arrivati a Milano portando anche il luogo portando anche i luoghi stessi abilitandoli no? cioè primo anno aveva una sede strepitosa e per farvi capire progetto iniziato 200 associati 200 persone che alla settimana si riunivano ci siamo ampliati gruppi di dialogo serate cinema training teatrali un giornale mostre d'arte Noce è diventato un polo culturale un qualcosa che crea polarità rispetto a Milano che non è attenzione la polarità non è l'opposto la polarità è quella cosa che crea tensione con il suo opposto questa è la grandissima differenza noi non vogliamo proporci come un'alternativa assolutamente alla città di Milano perché poi è innegabile che Milano offre delle possibilità enormi banalmente un passaparola di questo tipo è l'incontrare delle menti feconde per questa tipologia di progetti cose che per esempio se lo faccio a Pordenone non capisco niente sono indietro anni luce da questo punto di vista poveretti a Milano invece si è avanti a Milano si capisce che c'è bisogno di questa cosa questa è la grande potenzialità secondo me anche di Milano la diversità delle persone c'è pubblico per ogni cosa dalla cazzata la cosa più alta di questo mondo c'è pubblico a Milano c'è possibilità di raccontarsi raccontare quello che si vuole fare quindi il primo anno così il secondo invece abbiamo lavorato più sul territorio abbiamo fatto un bellissimo gruppo di dialogo all'interno di una basilica posto incredibile veramente ci consegnarono le chiavi la notte formidabile veramente formidabile all'osservatorio di Brera insomma abbiamo creato una nostra anche personale psicomappa ci siamo allargati in tutta Milano e adesso siamo pronti per il terzo anno a tutti gli effetti e collaboriamo con il comune con le altre realtà siamo una realtà di punta per Milano per tutto ciò che riguarda la cultura ovvero per tutto ciò che riguarda l'umano che non è scontato in un contesto come quello milanese non so esattamente come sia Torino però anche Torino è una grande città e credo che i problemi delle grandi città siano più o meno gli stessi le relazioni sono frammentate e disgregate a Milano i ragazzi ci vanno perché devono studiare oppure perché devono lavorare vengono da fuori si trasferiscono quindi lasciano casa famiglie affetti e si imbarcano in un'avventura che è piena di incognite o meglio uno sa che studierà tanto e studierà bene che si formerà che avrà un buon posto di lavoro sa che ci sono delle reali possibilità però però il problema è che se viene meno la possibilità di rimanere umani dentro questa performance esasperata che la società di Milano richiede allora rischi che poi mandi a rovina tutto questa è l'epoca in cui i ragazzi mediamente sono sempre più tristi sempre più spenti sempre meno vivaci io sto in mezzo ai ragazzi sto in mezzo ai giovani e sono l'ultimo che generalizza i giovani però mi rendo conto conoscendone diversi conoscendone tanti che le fragilità sono aumentate e sono forse sempre più accentuate come se i ragazzi avessero sempre meno appigli a cui agganciarsi per far fronte le difficoltà come se avessero in qualche modo le spalle meno coperte rispetto ad un tempo come se mancassero dei riferimenti culturali spirituali forti luci luminose a cui guardare quando uno sta nel buio cioè in altre parole non è un problema avere dei problemi non è una tragedia avere una crisi il vero problema la vera tragedia è non avere nessuno che ti aiuti ad abitare questa crisi non avere un riferimento più grande o una mano amica che ti permettano di starci dentro e attraversarle e trasformare queste esperienze drammatiche in esperienze di fecondità ogni generazione ha avuto i suoi problemi sempre pure mo e forse in passato di per sé erano problemi più pericolosi però è come se oggi ci fosse generalmente più difficoltà a reagire alle situazioni uno dei problemi che posso rinvenire è che c'è un tessuto relazionale molto più frammentato e molto più fragile e se noi che siamo le nostre relazioni non abbiamo relazioni vere tutto diventa tremendamente più complesso poi l'hai raccontato benissimo vabbè io Don Alberto arriviamo da in realtà già due incontri fatti assieme relativi all'ultima tua uscita l'ultimo romanzo di Don Alberto e secondo me ha raccontato benissimo questa situazione attraverso il protagonista appunto occhi insomma questo giovane questo adolescente che ha un sogno che è quello di diventare cantante quindi insomma si ritrova a Milano città dell'ambizione tutto quello che si vuole però insomma Don Alberto riesce sempre a mettere in luce una cosa meravigliosa all'interno di questo libro ma in generale in secondo me il tutto tutto il tuo modo di raccontare ovvero che nonostante tutto nonostante ogni tua ambizione ogni tuo sogno ogni tua capacità soprattutto soprattutto ogni tua capacità senza gli amici senza un gruppo senza quella cosa che effettivamente poi alimenta la tua ricerca e ti fa rimanere anche con i piedi per terra arranchi hai bisogno cioè il valore più grande è l'amicizia è l'avere qualcuno con cui relazionarsi confrontarsi anche con grande sincerità questo è il valore più grande probabilmente nella nostra vita ed è innegabile che ad oggi il rapporto umano l'amicizia sia qualcosa che posso dire che un attimino c'è uno scricchiolio anche sulla nostra personale capacità di relazionarsi con relazionarci con l'altro soprattutto anche quando le cose vanno male siamo minimamente abituati al conflitto minimamente abituati al dialogo minimamente abituati al confronto ma l'amicizia si basa anche su questo caspita sul conflitto anche si basa l'amicizia tantissimo c'è sempre una tensione e non essendo abituati a queste cose scricchio la rapporto ma da soli si fa ben poco da soli si fa ben poco trovare contesti come può essere anche questo festival associazioni come può essere noce community come può essere fraternità luoghi esperienze dove i rapporti sono favoriti dove sei aiutato ad uscire da te e incontrare gli altri dove puoi trovare degli amici secondo me questa cosa salva la vita e dovremmo investirci di più su questo c'è una grande investimenti su tante cose buone sacrosante però sulle relazioni sui contesti di relazione sulle possibilità di relazione dei ragazzi sempre meno bisogna essere amici per essere felici e chiaramente l'amicizia uno in qualche modo se la deve costruire se la deve creare la deve proporre e quant'altro però però appunto non è una gara questa cioè è una necessità comune dobbiamo tutti quanti aiutarci cioè nel bene della società e ogni età ogni fascia d'età ha una responsabilità sociale in ordine a questo soprattutto rispetto ai più piccoli si tratta di capire come tutti quanti possiamo aiutare i giovani a funzionare meglio e non basta dargli le università migliori oppure dargli le feste più divertenti o dargli i telefonini di ultima generazione non basta neanche l'intelligenza artificiale tutte cose che servono fanno bene ma ma se manca la possibilità di essere se stessi di essere persone in relazione allora rischia che non ci sia niente siamo tutti quanti legni storti e questo non è un problema di per sé siamo tutti quanti pieni di ferite e non è un problema di per sé siamo tutti quanti pieni di errori e non è un problema di per sé se c'è qualcuno che ci vuole bene che ci ama allora noi non siamo più il nostro errore noi non ci identifichiamo con la nostra stortura anzi se c'è l'amore anche una ferita può diventare feconda se c'è l'amore anche un errore può diventare il punto di partenza per una conversione se c'è l'amore anche una ferita un tradimento un problema una crisi uno scontro può essere trasformato e fatto diventare principio di fecondità io lo dico da prete Gesù muore in croce questa è una frattura questo è un legno stortissimo questo è un grandissimo errore però non è stata l'ultima parola perché? perché l'amore l'amore di Dio l'amore del padre riscatta questo errore trasforma questo sbaglio trasforma questo legno storto sterile nell'albero della vita scoppia la risurrezione e c'è bisogno di questo oggi i ragazzi di oggi sono fragili come tutti gli altri di ogni altra epoca sono feriti sono pieni di problemi ma se possono sperimentare l'amore perché trovano degli adulti credibili dei contesti sani se si sentono voluti bene allora tutti questi regni storti questi errori questi fili sfidacciati a un certo punto possono scoprire che non sono poi così sbagliati anzi bisogna passare di là per raggiungere un bene che altrimenti nessuno si sarebbe mai potuto aspettare grazie a tutti 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 grazie a tutti